Ci vediamo tra due settimane. D'accordo. Un viaggio per affrontare le proprie paure. Potrebbe essere quello che ti serve. Stacchiare per un po', riflettere. Ma in pochi secondi... Che succede? Oh mio Dio! Tutto può cambiare. L'onda anomale è arrivata al nulla. Per quattro uomini. Siamo bloccati, affonderemo! Il coraggio sarà la loro unica ancora. L'abbandoniamo la barba! C'è uno squalo! Per il ciclo No Panic, 119 giorni alla deriva. Domani sera alle 21.15, in prima visione su cielo.